Grazie, grazie. Hola, buonanotte. Buonanotte. Ah sì, por favor? Con la mano, por favor? Ah sì, muchas gracias. Ah sì, por favor? Muchas gracias. Ah sì, por favor? Mucha, mucha. Ah, más, 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 por favor? Más, más. Más. Más, más, más. Más, 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 por favor? Quiero mirar la persona peroyectiva. Más, más. Ven aquí, ven aquí. Mírame. Mírame, 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 relástate. Ahora controla una, tres, al número tres, dorme. Uno, dos. Va a contar hasta tres y al tres dormirás. Dos. Tres. Mírame, relástate, relástate. Dorme tranquilo. Ascoltame. Escúchale. Ahora. Cuando abras los ojos vas a ver un ratón en el suelo. Vas a intentar matarlo. Ahora. Abre los ojos. Abre los ojos. Abre los ojos. Relástate, 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 tranquila. 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 Ahora. Yo te, ti do un gelato. Ahora te va a dar un helado. Es un helado estupendo en tu mano. Ahora. Tú lo puedes comer. Ahora. ¿Te lo vas a comer ahora? Ahora, ahora. Muy bien. Muy bueno. Muy bien. Más, 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 más. Más. Muy bien. Muy bien. Por favor. Por favor. Por favor. Obviamente el helado es de yema. Por favor. Por favor. Más, más, por favor. Más, más, más. Más. Más, más. No, no. No, no, no. No, no, no te preocupes. No te. No te. No te dormes. Por favor. No te preocupes. No te preocupes. Tranquila, ¿eh? Mírame. Mírame. Il tuo gelato è molto bello, molto buono Il tuo gelato è buonissimo Hai freddo? No Mírame, rilassate Rilassate Mírame, rilassate Relájese, Mirela, e rilassate Ora ti dirò una cosa molto importante Il numero due Il numero due Dalla tua mente sparirà, non existe Va a desaparecer di tua mente, non existe Mírame, por favor Non dormire, mírame, non ti dormo, eh Non ti dormo, mírame, por favor Non ti vas a dormir Cerra un po' i occhi Mi raccomando, il numero due non existe Te digo, il numero due non existe Abre i occhi, por favor Por favor, quanto dita tiene la tua mano? Quantos dedos tiene tu mano? Cinco Cinco? Sì Puoi contare? Uno, tres, quattro, cinque, sei No Repete Uno, tres, quattro, cinque, sei No No Comincia da chi? Cinco Quattro Tres Uno Zero No Mírame, rilassate, rilassate, sedia Mírame, rilassate, rilassate Mírame, rilassate, rilassate Dormi, rilassate Así, rilassate Perfecto Tranquila, tranquila Buono, muy buono Muy buono, muy buono Oh, por favor Yucas, a ver si se la va a desgastar el dedo No Ahora lo faccio Anco, más, más, por favor, más, más, más Más, más, así, así Quieres, quieres Por favor, que así Así, así, así Quieres, quieres Así, así, por favor, así Así, así, más, más, más Mírame, rilassate Mírame Mírame, más, así, mírame Mírame, así, así No te preocupes Más, 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 más Mírame Así, así, más, más No se puede firmar Qué quieras Qué quieras Qué quieras Qué quieres Qué quieres Che chiede? 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 Che chied Rilassate! Rilassate, tres! Perfecto, sì. Dormi profondamente. Quiero una altra persona, ora. Que tiene miedo? Que no tiene miedo? Alguien que no tenga miedo? Más, más, por favor, más, más. Mírame, 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 mírame. Por favor, mírame, 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 mírame. Mírame, mírame, mírame. Relázate, relázate. Dormiiiii! Ahora te farás venir una bella película. Ahora vas a ver una película estupenda. Una pelicula porno. Una pelicula porno. Quando ti dira già. Tu aprirai gli occhi e vedrai un film porno. Abrirai gli occhi e vedrai una pelicula porno. Sei solo, sei una camera solo. Estai solo, in una habitazione solo. Ora. Pronto. È un film molto, molto alto. È molto forte, sì. È molto forte. È molto forte. È molto forte. Stai tranquillo, sta tranquillo. È molto forte, è molto forte. È molto forte, è molto forte la pelicula. È molto forte la pelicula. È molto forte la pelicula. È molto forte. È molto forte. È molto forte, è molto forte. La pelicula. È molto forte la pelicula. Nel finale, nel finale, nel finale, non ti agitare, non ti agito, non ti agito, sto a dormire, perfetto, ora, ascoltami, escúchami, adesso c'è una gara, hay una carrera, di un ballo, hai un concurso de baile, di un ballo sexy, è un baile sexy, e tu dove hai gareggiare, e tu tienes que concursar, tu sei molto bello, eres guapissimo, al mio dia sentirai la musica, al mio dia ya, escucharás la musica, e bailarai sexy, y bailarás muy sexy. Musica, por favor. Musica, por favor. Ahora, ahora, ahora. Bona nit! Ahora, ahora. ¡Vamos, vamos! Onzi-oh! 3, 3, 4! Move y work while here... Aims are lights, ne pronto... I'm gonna light the way you fight... Now, if I oversee the code I'd use, to wash away my lonely bu aula Ora... Cosè... Ora... Cosè, ti senti? C'è il più ballerino che si spolla! Ora... Anche la signora! Cosè, anche la signora! Anche la signora dancerà! C'è il più ballerino che si spolla! Dile alla signora che adesso ti parla! Ora ti parla, che parla, che danza! Sexy! 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 Eh, guapissima! Guapissima! Pass, pass, pass! Eh! Sexy! 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 Te presento, Silvia. Hola, come stai? Però che haces così? Vai dietro, vai dietro. È joven, è joven. Eres joven, è molto guapo, non passa nulla. Por favor, mi vuoi vestire già, por favor. E ora ti vas a... Non ti ricordi di questo? Non ti ricordo di questo. Non haces questo mai? Non è? No, non ti ricordo di questo. Tu sei molto sexy. Por favor. Tienes un montone di fans. Alla chica, alla chica, alla chica. Amigos, impresionante, Yucas Casella. Grazie, grazie. Grazie, Yucas. A la prossima. No, non ti ricordo di uno fino a tre. E al numero tre, tornerà in normalità come antes. E starà bene. Uno. Ti piace molto, eh? Dos. Tres. Per favore. Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tutto bene? Tranquilla? Che ha passato? No, non so. Bene. Puoi far spiegare ai nostri amici. Amigos, è incredibile, una volta più, Yucas Casella. Grazie a tutti. Grazie, grazie. Grazie. Grazie.